Forse un debito non estinto alla base dell'omicidio di Claudio Coppa, il 32enne titolare di una sala giochi a San Marzano sul Sarno, ragazzo per bene molto conosciuto nella piccola cittadina dell'agro che è stato ammazzato la sera dell'ultimo dell'anno perché aveva chiesto, a quanto pare con insistenza, la restituzione di un prestito concesso ad un ragazzo che conosceva, e cioè Pietrangelo Pagano, 25 anni incensurato, che gli ha inferto il colpo mortale dopo una violenta elita avvenuta in due tempi. Un primo contrasto era avvenuto nel tardo pomeriggio, i due si sono poi reincontrati nella centralissima piazza Umberto I a San Marzano sul Sarno e lì dalle parole si è passati purtroppo ai fatti. La violenta elita si è conclusa con l'uccisione di Claudio Coppa, ragazzo robusto, molto più di Pagano, che ha sferrato un colpo con un coltellino a serramanico, quello che usano solitamente i pescatori. Pagano ha colpito Coppa al torace e per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare. Una colluttazione fatale per Coppa che si è accasciato subito al suolo. Nonostante il pronto intervento di alcuni conoscenti che lo hanno trasportato subito all'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno, Coppa arrivava già cadavere al nosocomio. Dell'assassino per alcune ore nessuna traccia, i carabinieri di San Marzano, coordinati e coadiuvati da quelli del reparto territoriale di Nocearo Inferiore, si ponevano però subito sulle sue tracce. Indagini a tappeto con varie segnalazioni e quando ormai Pagano era abbraccato, ecco che quest'ultimo ieri mattina si presentava nella caserma dei carabinieri per costituirsi. Carabinieri che lo hanno interrogato recuperando anche l'arma del delitto e trasferendo poi Pagano al carcere di Forni. I militari intanto stanno proseguendo le indagini per appurare con certezza quale sia il motivo che ha portato Coppa e Pagano a scontrarsi, uno scontro purtroppo fatale per il 32enne Claudio Coppa.